allora ciao da coach sebastiano in questo video andrò a parlarti di i am mastery academy in una chiave un po un po particolare fra un attimo lo vedremo appunto parleremo di tlx allora chi sono io te lo spiego brevemente il mio nome coach sebastiano sono un dottore in psicologia del lavoro da tanti anni insegno e aiuto le persone imparare cose importanti per poter guadagnare nel loro ambito professionale sono al lavoro lavoro e collaboro attivamente con i am academy da pericolo tempo e sono ricopro attualmente la carica di next platino 5000 poi per un attimo ti spiegherò anche cosa vuol dire questo tipo di incarico allora innanzitutto ti spiego una cosa se hai sentito mai parlare di i am academy e forse l'hai sentito a nominare per il suo i suoi programmi più famosi che sono appunto il tbx frx dcx hx ovvero programmi di formazione appunto che insegnano le persone come guadagnare dai mercati dal mercato dell'e commerce dal mercato dello scalping del mercato del cambio valute del cripto valute che sono tutte cose interessantissime ma oggi parleremo invece di una un nuovo prodotto sempre dell'azienda am academy che è tlx che riguarda proprio il mondo dei viaggi nel senso non metaforico ma dei viaggi proprio delle vacanze e del viaggiare in giro per il mondo ciò nonostante rimane un qualcosa che tu potrai fare sì per svago per per il piacere e per per il diletto diciamo nel tempo nel tuo tempo libero ma anche soprattutto per comunque fare quello che facciamo in amacademy che è guadagnare di più poter risparmiare e poter anche investire il proprio denaro quindi andiamo davvero nel vivo di questa presentazione perché magari appunto ti è stata presentata come qualcosa che riguarda i viaggi e voglio entrare nel vivo dunque le persone te lo scritto anche qua vogliono avere più soldi e più tempo non per collezionare soldi o per stare fermi in casa senza fare niente ma per godersi un po di più la vita ok poi magari per qualcuno è viaggiare di più per qualcuno è fare equitazione fare qualsiasi cosa ma comunque godersi la vita avere delle esperienze di relax di benessere non soltanto lavorare basta ecco per capirsi quindi viaggiare e fare esperienze di relax che sia ripeto una spa un weekend un viaggio culturale o un viaggio di puro divertimento in spiaggia sono obiettivi spesso ahimè frustrati di molte persone perché spesso non si hanno tempo non si ha tempo e non si hanno soldi abbastanza per farlo quindi come sarebbe poter guadagnare ecco quello che dicevo prima guadagnare risparmiare e investire guadagnare risparmiare e investire i soldi in viaggi ed esperienze di gruppo assieme alle persone che ami e nei posti più belli ovvio che sarebbe bellissimo quindi semplicemente andiamo a vedere come è possibile farlo proprio grazie ad iam academy tlx appunto di iam academy permette di risparmiare guadagnare e investire nel mondo dei viaggi creando un proprio business in questo mercato bellissimo oltre che naturalmente a godersi questo questo mercato bellissimo quindi andiamo un po per ordine e in maniera anche veloce il primo forma la prima forma di risparmio che lo ripeto ancora uno degli obiettivi è risparmiare la prima forma di risparmio è proprio dal punto di vista dei prezzi delle tariffe che tante volte abbiamo per i viaggi quindi dritti al punto spesso le persone non possono permettersi nemmeno un weekend a certe cifre ma se lo potessero fare a prezzi scontati magari lo farebbe semplicemente magari sei una persona come tantissime altre che non potrebbe mai spendere 500 euro per un weekend di lusso un weekend bello rilassante perché magari poi come dire spendi 500 euro per un weekend e poi non magari non si riesce a pagare le bollette del mese per cui è anche saggio non farlo se uno non ha molti molti soldi però questo non significa che tutti non vorrebbero farsi magari ogni tanto una volta al mese ogni tre mesi un piccolo weekend anche soltanto veramente due giorni di stacco in un bel posto quindi se si potesse fare tutto questo a delle cifre abbordabili non magari 500 magari 50 100 euro forse non dico tutte le settimane ma insomma qualche volta in più sicuramente si potrebbe fare quindi avere questo risparmio semplicemente offre delle possibilità altrimenti negate chiuse che non si potrebbero avere quindi semplicemente poter risparmiare su un piccolo viaggetto ti permetterebbe di farlo senza magari far mancare qualcosa purtroppo questa cosa spesso è talmente desiderata dalle persone talmente difficili da realizzare che si vanno a fare cose davvero dal punto di vista economico un po folli tipo prendere un mutuo fare un finanziamento credito di consumo e prendere soldi in prestito sostanzialmente per poter fare una vacanza quindi il diritto il desiderio della vacanza talmente grande le volte nelle persone talmente frustrato perché non siano i soldi che si va appunto a fare in tantissimi italiani proprio accendono un mutuo un finanziamento per farsi le vacanze tanti pensano quindi di risolvere il problema così chiedendo soldi in prestito per fare una vacanza ma non pensano che così non solo la pagano a prezzo pieno ok quindi non hanno nessun risparmio sulla singola vacanza ma in più pagano anche il costo degli interessi sul finanziamento sul mutuo insomma sul credito che chiedono quindi rischiando anche poi magari di diventare cattivi pagatori se un mese non si paga se uno si mette delle rate si mette dei bollettini postali o quel che sia ma per poter fare una vacanza ok quindi grazie a te le x a tutti invece possono risparmiare e parlando di risparmio è anche giusto dare delle percentuali quindi dal 10 al 60 per cento anche rispetto a delle tariffe già scontate che magari puoi conoscere su booking ormai oggi tutti usano booking per non solo per controllare comportare i viaggi ma anche perché c'è un piccolo risparmio che non è granché rispetto alla struttura stessa quindi avere delle tariffe super scontate rispetto anche a booking ok che magari può il pietra di paracolo quindi tlx è una membership adesso vediamo c'è anche c'è anche un costo naturalmente ma questa membership dà diritto ad avere questi sconti su tantissime tantissime strutture e parliamo di più di 8 mila strutture in tutto il mondo e anche in italia comprese che poi che puoi utilizzare all'interno del circuito tlx per avere questi sconti grandissimi quindi la seconda forma di risparmio e quindi parliamo ancora di risparmio non stiamo parlando ancora né di guadagno intanto meno di investimento la seconda forma di risparmio è che visto che chiaramente viaggiare non è una cosa che piace a te e gli altri odiano farlo anzi è una cosa molto un desiderio molto diffuso grazie ad un link referral cioè quindi tu ti iscrivi a tlx e paghi la tua membership fra un attimo vedremo ma parliamo di 170 euro quindi niente di straordinario comunque grazie a questo link referral se altre due persone dopo di te potrebbe essere il giorno stesso potrebbe essere una settimana dopo un mese dopo non importa non c'è un limite di tempo se quando due persone dopo di te useranno il tuo link referral per magari appunto unirsi a questa community a poter viaggiare anche loro potrebbe avere gli stessi vantaggi che hai tu perché magari parlerai perché magari hai fatto un viaggio e ti chiederanno come hai fatto per metterlo insomma ci sono tanti modi di far conoscere questa opportunità decidono anche loro di risparmiare sui loro viaggi per entrare nel gruppo tlx e tu avrai un rinnovo gratis al 100% per tutti i mesi in cui queste due persone saranno attive quindi totalmente supponiamo che tu per comunità ti iscrivi a gennaio durante il mese di gennaio fai conoscere tlx a un paio di persone il mese di febbraio non lo pagherai se queste due persone rimangono attive anche febbraio tu non pagherai neanche il terzo il quarto quinto mese dell'anno e così virtualmente all'infinito finché due persone o più persone rimangono attive quindi questo è un modo di anzi qua non è neanche un risparmio qua visto che verrà ce l'avrai gratis al 100% quindi soltanto i 270 euro non andrai più a pagarle per rinnovare la tua iscrizione in tlx ma sarà un rinnovo gratuito al 100% quindi avrai tutti i diritti di avere sconti e vantaggi senza più pagare la quota mensile con soltanto due persone che dopo il te vorranno approfittare della stessa opportunità ma non è finita qui anzi abbiamo appena iniziato perché oltre a queste due forme di risparmio c'è il risparmio che avrai su tutti i viaggi per weekend esperienze che potrai prenotare il potenziale risparmio del 100% semplicemente offrendo questa opportunità ad altre due persone se questo non bastasse potresti anche guadagnare perché perché naturalmente due persone ti permettono di avere il cosiddetto tu in free ma se tu invece decidi che effettivamente ti rendi conto che tante persone vorrebbero fare queste esperienze tante persone desiderrebbero appunto come diciamo all'inizio avere più tempo più soldi per più tempo più soldi per poter viaggiare poter potersi la vita magari vuoi trasformare questo addirittura in un guadagno quindi se oltre a risparmiare sui viaggi risparmiare sulla tua quota tlx vuoi addirittura guadagnare da questo mondo allora puoi decidere di crearti un gruppo di persone non più di due ma magari tre quattro cinque sei persone e bastano una dozzina di clienti e attenzione dozzina di clienti per qualcuno può sembrare tanti per qualcuno possono sembrare pochissimi perché effettivamente quante migliaia di persone vorrebbero fare questa cosa qui quindi se nel giro di un mese due mesi dopo di te si iscriveranno altre persone e tu potrai addirittura avere un guadagno mensile di 600 dollari tutti i mesi che rimangono attive queste 12 clienti di tlx che loro hanno loro interesse poi loro potranno decidere di trovare altre persone o non trovarle cioè non è non è una cosa obbligatoria diciamo se questa cosa succede e ci sono veramente mille modi di farlo succede basta far conoscere basta fare qualche foto alla fine sostanzialmente in cui ti fai una bella vacanza che tutti ti chiederanno come hai fatto come non hai fatto e quindi magari questo è semplicemente il modo più più ovvio e molto trasparente di far conoscere tlx e beh insomma comunque se nel giro di qualche settimana a mese e 12 persone dopo di te e attenzione non devono neanche essere persone che conosci tu direttamente possono essere anche 3 4 persone che conosci tu ognuna di queste persone magari conosce un paio di persone chi 2 chi 3 4 insomma quando si arriva a 12 persone dopo di te ed è semplicissimo arrivarci dovrai un guadagno di 600 dollari al mese questo potrebbe essere davvero un primo forma prima forma di guadagno perché insomma stai risparmiando sui viaggi addirittura stai guadagnando dei soldi per per qualsiasi motivo per qualsiasi scopo che tu voglia farlo ma addirittura se vuoi prendere sul serio questa attività quindi come dire entrare in questo mondo allora lasciando che il gruppo cresca puoi facilmente arrivare addirittura dei guadagni di 1000 2000 e che corrispondono appunto alla qualifica di platino 1000 platino 2000 ed ecco che ti dicevo qual è il mio next il prossimo obiettivo è arrivare alla qualifica di platino 5000 quindi guadagnare 5000 dollari al mese dalle varie attività che possiamo fare nei am academy e questo è quello che io mi sto avvicinando a fare quindi davvero questa forma di questa seconda forma di guadagno il secondo livello di guadagno che chiamano come vuoi è qualcosa che va ben oltre il gratis o ben oltre i 600 dollari al mese che per carità fanno comodo ma magari non cambiano la tua vita quindi guadagnare 1000 2000 appunto 5.000 10.000 al mese può essere davvero una forma di guadagno che ti permette di goderti davvero un po di più la vita oltre che di viaggiare più serenamente più spesso quindi la domanda è quante persone attorno a te o nei social vogliono viaggiare risparmiare e magari anche guadagnare quindi basta far conoscere tlx e m academy ad altre persone quindi questo è assolutamente possibile l'ho fatto io l'hanno fatto migliaia di altre persone quindi nulla di complicato ma finiamo finiamo o meglio andiamo a vedere addirittura ti ricordi ti dicevo risparmiare una cosa guadagnare quello che abbiamo appena visto addirittura una sorta di investimento che proprio fai nella nel tuo viaggio personale la tua nella tua esperienza di vita quindi andiamo a vedere come si può investire quindi innanzitutto come sarebbe se oltre risparmiare sui weekend o i tuoi viaggi che potrei fare durante l'anno e guadagnare ogni mese dai soldi per aver condiviso tlx con altre persone alla fine dell'anno avessi un rendimento tra virgolette insomma sui soldi che tu hai investito in tlx se vedessi i tuoi soldi i soldi usati per pagare la tua il tuo rinnovo di tlx raddoppiati in termini di valore per un viaggio anniversario che ho messo semplicemente una foto simpatica di un di un maialino di un salvanaio perché perché effettivamente potresti immaginare che se per 12 mesi tu non hai la quota di tlx per avere i tuoi vantaggi o addirittura perché stai guadagnando quindi hai tutto l'interesse a farlo beh questi soldi mese dopo mese per 12 mesi li hai diciamo hai le accontanate le hai messe a parte ti vengono restituiti sostanzialmente sempre in un in un viaggio da un valore di superiore cioè superiore o pari a questa quota versata ma addirittura raddoppiato raddoppiato perché il viaggio anniversario sarà non per per una persona soltanto ma per due persone completamente gratis quindi se resti iscritto diciamolo proprio espressamente se resti iscritto a tlx per 12 mesi hai diritto ad un viaggio anniversario del valore superiore alle 12 quote mensili quindi non solo te le ritrovi come se le avessi messe da parte ma addirittura raddoppiato per il fatto che sarà gratis per due persone tu e chi vuoi al tuo fianco durante il viaggio quindi sarà un viaggio che sceglierai da un catalogo speciale di viaggi anniversari e nota bene puoi aver diritto al viaggio anniversario anche se dovessi usare tutto l'anno la modalità tuo in free quindi tornando un secondo fa cioè quindi se semplicemente tu hai due persone quindi non parli di guadagno di far crearti un gruppo cioè no soltanto le due persone che ti danno diritto ad avere il rinnovo gratis beh se per 12 mesi l'ità anche gratuitamente tu ti rimani attivo quindi due persone soltanto tu non lo paghi però per 12 mesi di seguito hai questa sei comunque attivo gratis o non gratis 12 mesi hai diritto al viaggio anniversario come se l'avessi pagato quindi hai davvero lì un investimento pazzesco perché soltanto non hai speso praticamente nulla e hai un viaggio dall'enorme valore per due persone completamente gratis alla fine dell'anno perché comunque hai aiutato in qualche modo iam academy a crescere avere un suo guadagno ok ciò non basta ancora perché perché magari tlx fa parte appunto di iam academy come dicevo che è famosa per questi programmi cioè più famosa nel senso che tlx è relativamente una novità più famosa per questi guadagni che per questi programmi di informazione che ti permettono di guadagnare dai mercati delle valute delle criptovalute dell'e commerce eccetera quindi tornando a noi per concludere un pochettino se iam academy è la più grande compagnia al mondo di educazione finanziaria e ha insegnato a quasi un milione di persone in tutto il mondo come investire i loro risparmi moltiplicati nei mercati più ricchi al mondo quindi se durante i tuoi viaggi potessi addirittura imparare a fare dei piccoli investimenti delle piccole operazioni di cambio valute come quelle che facciamo tutti tutti i giorni noi dal nostro telefono dal nostro cellulare quindi puoi farlo a casa puoi farlo al lavoro ma puoi farlo anzi magari anche di più anche meglio in vacanza e poter continuare quindi a guadagnare durante la vacanza quindi un po questo è la visione di iam academy aiutare le persone a viaggiare a fare esperienze migliori avere più tempo libero più guadagno più benessere potendo sfruttare questi mercati questa tecnologia moderna quindi se durante i tuoi viaggi potessi addirittura imparare come fare questi piccoli investimenti in piena autonomia e magari aggiungere dei guadagni ulteriori non sarebbe un modo fantastico di godersi la tua vacanza quindi poter guadagnare non solo fare la vacanza che è già un lusso ma poter anche guadagnare durante questa vacanza quindi questo è un po quello che ti aspetta adesso a conclusione di questo video sai quali sono i vantaggi sai quali sono le opportunità incredibili di poter viaggiare godersi la vita guadagnare condividere tutto questo con altre persone sia persone che tu conosci sia persone che magari non conosci attualmente ma conoscerai durante queste queste esperienze se ti piace l'idea di poter viaggiare il mondo risparmiare guadagnare addirittura investire allora contatta per quanto mi riguarda ti do il benvenuto nel mio gruppo se appunto stai vedendo questo video ma contatta la persona che te l'ha fatto vedere e fissiamo l'appuntamento e vedrai come l'iscrizione i 170 euro quindi sono 5 euro al giorno insomma assolutamente una sciocchezza mentre fumare e andare al bar e prendere un cappuccino e una brioche ti costa di più ti permette di entrare in questo fantastico mondo di iam academy tlx e tutto il resto quindi un saluto un abbraccio dal coach sebastiano per quanto mi riguarda davvero sei benvenuto in questo mondo e cominciamo cominciamo a viaggiare guadagnare investire e risparmiare